time to feel the day on the line ovviamente non potevo venire in vacanza senza i miei completini di fgm allora questo è il modello con l'effetto push up è super modellante in vita ovviamente fa l'effetto push up questo è uno dei miei colori in assoluto preferito infatti li metto sempre sul sito ne troverete anche di altri colori ovviamente hanno sempre fate sempre con quel tessuto tecnico che va a stimolare la microcircolazione e in più questi sono gli ultimi giorni di saldi troverete un sacco di promo sul sito dove più acquisterete più avrete sconti e in più come sempre vi lascio anche il mio codice sconto che è Taylor Rock avrete il 10% di sconto da aggiungere a tutti gli altri sconti che ci sono già sul sito io sono loco quando lo muevi così puro in cima di mi dalle ponte pa' mi che ti voglio sentire qui ci sono